Quindi che cosa vuoi da Marcello alla fine? Io voglio il divertimento che mi ha dato ieri sera, l'abbraccio che mi ha dato mi ha fatto sentire importante perché mi ha abbracciato nel momento in cui mi dice ci baciavo col bacio stampo gli ho detto perché è un cliché che si è già visto e quando non fumerai più allora mi ha preso, mi ha abbracciato con una risata che è stata impagabile perché mi ha preso proprio così in modo genuino Che preferisco poi un abbraccio a sto bacio stampo io C'è tipo un compagno di merenda, uno con cui condividere Sì, uno per passare qualche serata così divertente C'è un abbraccio e tu ridi, lo possiamo fare anche io e te insieme, quindi è uguale Per adesso è così Ah ok, ho capito Ma quindi guarda, continua ad uscirci o no? Che senso ha? Ma io dico, ma Anna, quanto c'è uscito? Un mese e mezzo, giusto? Un mese No, due settimane Ti hanno fatto il terzo grado così, lo bacieresti, non lo bacieresti, l'hai conosciuto? Tre settimane ci siamo visti due volte Però com'è? Il poscio non l'hai portato, è utilitaria, però siamo stati bene lo stesso No, quando è uscito con te non era disponibile, l'hai stato affittato Ah, vero? No, comunque, no, è quello che dice Barbara Il fidanzato che me l'ho trovata fuori Aveva solo 7-8 anni più di me Però sembra suo fratello, cioè voglio dire, alla fine se mi sento non lo so, mi maledirà Però fisicamente, cioè, è messo meglio lui Per dire La realtà è relativa, lo sai anche tu Maria, se non so quanti anni hai di differenza da Maurizio 24 Eh, voglio dire, ma ti hanno fatto tutte queste storie a suo tempo? Sì Ah, sì